Quindi proviamo con il numero 7. Sì, la band sta eseguendo la sua performance. La band sta suonando. Occhiali pezzi. Ciao cari amici, ciao cari tecnici, ora è qui. Il nuovo Bulldog 2 è fuori e oggi voglio spiegarvi brevemente e chiaramente cosa lo rende così speciale. Perché sembra incredibile, questo è ovvio, ma hey, qui non c'è nemmeno un millimetro di casualità. Ogni dettaglio di questa forma è attentamente pensato e anche della funzione. Voglio soffermarmi brevemente adesso. La lavorazione è così precisa che sono in parte le macchine di produzione più moderne. Se Wirecut vi dice qualcosa, sapete cosa rende questa precisione così importante qui. Sono stati usati alluminio per aerei, acciaio inossidabile, gomma siliconica resistente al calore, stabile a qualsiasi temperatura e tutto è stato finemente cromato galvanicamente. Per raggiungere tale obiettivo abbiamo delle molle che sono state calcolate in modo da garantire un'ottima funzionalità. La funzione è unica. In passato, essendo uno strumento artigianale, si è prestata attenzione al fatto che sia possibile toccarlo. Le mani devono poterlo toccare, le parti funzionali che non devono essere toccate, sono all'interno. Qui si può direttamente oliare, qui non può nemmeno sporcare. Se volete evitare fili di colla con le vostre pistole adesive, basta chiuderle e non si sporcheranno. Quindi è effettivamente completamente utilizzabile. Le mani lo capiscono, lo prendi in mano e siete subito partner. La forma che ha è così ben progettata che, una volta descritta, può ancora rimanere in piedi senza alcun problema. Quindi il peso di battuta qui sotto è leggermente allungato e diffuso. L'allargamento è la base, una base geniale con supporto in gomma e allo stesso tempo è anche una protezione antiscivolo per il cortile. Poi abbiamo qui un'estensione piccola, utile per il supporto del pollice. Posso prenderla e mostrartela durante l'uso con una mano, lavorando comodamente con il pollice qui davanti. Questo è molto importante per i collanti a base di calcare o per altri collanti a bassa aderenza. Poi ha installato dei meravigliosi magazzini. I magazzini puoi inclinarlo, non può graffiare, fa pochissimo rumore, scorre come un gatto. Il rapporto tra i pesi alluminio 100 grammi, 1,1 chilogrammi dietro, l'ho descritto nel video introduttivo, ha un rapporto meraviglioso, quindi non senti quasi affatto il peso da accelerare. E inoltre è anche a sfera morbida come un gatto. Qui ci sono cuscinetti a rulli che sono così larghi, questa parte e l'intera area sono cuscinetti a rulli e quindi si ha una guida meravigliosa che non solo garantisce un funzionamento scorrevole ma anche una protezione dall'usura. Puoi quasi smettere di viaggiare del tutto. Non puoi più incollare i pad in modo così facile perché sei sempre bellamente guidato in ogni momento. Può andare velocissimo come un matto impazzito. Ora è un po' più morbido ma tira molto, un po' più duro tirerebbe meno, un po' più morbido tirerebbe meno. Diventare inefficace. Pertanto questa penna è stata testata al massimo, sono stati molti tentativi e questo è attualmente il migliore ammortizzatore in termini di peso che si tira incredibilmente bene. Ciò a volte comporta la necessità di richiedere solo un'operazione di traino, che altrimenti richiederebbe due o tre operazioni. Questo comporta che, soprattutto con le collanti a freddo, che aderiscono debolmente, a volte è necessario colpire indietro per una buona trazione. La gamma di azione del treno. Alcuni tecnici hanno martelli di trazione piccolissimi per compiti delicati e poi enormi martelli brachiali per tamponi adesivi o parti laterali da tirare e stabilizzare. Ora è possibile trovare tutto in un unico dispositivo, in cui si ha soltanto la trazione morbida con il tiro a molla. Quindi non ho bisogno di uno piccolo ma più morbido di questo, quasi impossibile lavorare quasi a zero e con questo peso incredibile che si trova raramente si ha così tanto potere. È pazzesco. È contemporaneamente un controllo pazzesco grazie alla conservazione morbida. Posso usarlo con una sola mano, posso tenerlo con una mano sul tetto, ad esempio dall'alto verso il basso, posso usarlo in orizzontale con colla fredda e simili con una sola mano. Questo è uno strumento artigianale. Le tue mani, le vostre mani adoreranno questa cosa. Il pendolo si muove in modo molto morbido. Posso ancora regolarlo come con il Poledog 1, girando il peso fino a renderlo completamente duro, anche senza un'altra parte. Chi ne ha bisogno? Non so chi potrebbe aver bisogno di un martello a slitta pesante, ma alcune applicazioni o tecnici lo apprezzano. Poi si gira per dieci giri e già si sente la durezza. Inoltre colpisce anche qui con una certa intensità. Ma posso solo consigliarvi di tenerlo morbido. E questo ha infatti il maggiore effetto. E se ho davvero bisogno di una mossa dura, questa molla morbida non ne risente. Quindi non ne è influenzato. La nuova funzione non solo migliora del 300% la trazione e la rende più morbida, ma migliora anche i risultati di trazione. Parlo nuovamente di colla fredda. Non solo questo può fare il nuovo Pull Lock, ma il nuovo Pull Lock è ora un doppio martello. Posso tirare e posso anche colpire. Colpisce per così dire qui dentro. Non riesco a pizzicarmi. La funzione di battuta è qui. Questa parte colpisce internamente qui. Quindi devo sempre mettere le cose che altrimenti avrei dovuto fare con un martello e un scalpello sul retro. Incontrarsi. Non è un problema per la maggior parte dei tecnici, ma se mi concentro sulla punta davanti a volte sbaglio. Posso lasciarlo completamente adesso perché lo spingo solo insieme e posso piegare le lamiere in ogni posizione. Posso schiacciare facilmente le sovrastensioni. Posso piegare i bordi e posso anche scavare scanalature dalle pagine senza avere grandi problemi a farlo in modo che sia a filo. Posso ancora aggiungere prolunghe qui. Nel set di avvio ci sono prolunghe per le chiavi a bussola, anche sul 5 bra 16, la norma americana. Viene anche presa in considerazione, in modo che tu abbia tutto il necessario per colpire. Gli articoli saranno incredibilmente innovativi. Anche quelli che devono ancora arrivare saranno straordinariamente rivoluzionari. Non solo per i bordi del tetto e le scanalature, ma ci sono anche attrezzi per scavare e tagliare montabili. Verranno sicuramente più tardi. E su questo potete chiedere. Sì, il set di avvio, se volete acquistarlo, è composto dal bulldog, vari attacchi e prolunghe per colpire, attacco a sfera, la scheda manuale e tutto. Vi auguro molto, molto successo. Lo amerete, ve lo prometto. Karsten è qui per voi.